Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Con la parola di Dio nelle sue mani, ogni essere umano, dovunque vada la sua vita, può avere la compagnia che sceglierà. Nelle sue pagine, può conversare con i più nobili e migliori della razza umana e può ascoltare la voce dell'Eterno che parla all'uomo. Come studia e medita sui temi nei quali gli angeli desiderano guardare, può avere la loro compagnia. Può seguire i passi del Maestro Celeste e ascoltare le sue parole come quando insegnava sulla montagna, pianura e mare. Egli può vivere in questo mondo, nell'atmosfera del cielo, impartendo agli afflitti e ai tentati della terra pensieri di speranza e brama di santità. avvicinandosi sempre di più alla comunione con l'invisibile come chi in antichità camminò con Dio, avvicinandosi sempre più alla soglia del mondo eterno, finché si apriranno le porte ed Egli vi entrerà. Egli non si sentirà estraneo. Lo saluteranno le voci dei santi che, invisibili, sulla terra furono suoi compagni. Voci che qui imparò a distinguere e ad amare. Colui che attraverso la parola di Dio ha vissuto in comunione con il cielo si troverà a casa con la compagnia del cielo. Education, pagina 127, paragrafo 1. Vi chiedete perché a volte cito Ellen White prima del sermone. Io voglio che le persone siano entusiaste dello spirito di profezia. Non sapete quanto vi perdete non leggendo questi scritti. Riempite la vostra mente con la Bibbia. Qualcuno dica Amen. E gli scritti di Ellen White. Dite Amen. Abbiamo un paradiso da guadagnare e la morte da evitare. Ciò che riempie la vostra mente influenza il vostro comportamento. Si sente spesso parlare di disordini ai concerti RAP, dove si sparano. Avete mai visto una rivolta ad un concerto di musica classica? La qualità della musica influisce sul comportamento. Preghiamo. Padre Celeste, grazie per la Tua bontà e misericordia. Non c'è limite. Tu hai risparmiato le vite del Tuo popolo in un incidente. Purtroppo una chiesa è crollata. Ma Ti ringraziamo per aver risparmiato coloro che sono stati creati a Tua immagine. Aiutali a riprendersi dallo shock. Signore, provvedi per loro. Guidali per la ricostruzione o il trasferimento. Padre, fa che non dimentichino mai che Tu hai salvato le loro vite. Benedici il Tuo popolo in tutto il mondo. Ti prego nel nome di Gesù. Amen. Oggi parliamo di farmaci senza ricetta medica. Matteo, capitolo 5, verso 38. È una parte del Sermone sul Monte. Voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non resistere al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E se uno vuol farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Stop. A quei tempi, il soldato romano poteva costringerti a portare il suo bagaglio un miglio. Gesù dice, fai due miglia. Vai oltre la chiamata al dovere. Questo è un comportamento cristiano. Romani, capitolo 12, verso 18. L'argomento è farmaco senza ricetta. Se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Ecco come noi traduciamo questo versetto con il nostro comportamento. Se è possibile, per quello che tu puoi, vivi pacificamente con me. Noi lo attuiamo in questo modo. Mettiamo il peso sull'altra persona verso di noi. Ascoltate Gesù che parla attraverso Paolo. Se è possibile, cioè provale tutte, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Vivete in pace con i professori che ritardano con i voti. Vivete in pace con il supervisore che sembra imparentato con Belzebub. Vivete in pace con i vostri suoceri che cercano di gestire la vostra vita. Se è possibile, impegnatevi nello studio e migliorate i voti. Matteo capitolo 10, verso 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Pecore e lupi sono degli opposti. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. A chi parlava Gesù? Ai discepoli, non ai lupi. Si può pensare che Cristo dica ai lupi, siate gentili con le pecore. Cristo dice alle pecore di cercare di andare d'accordo con i lupi. Se applicassimo questo principio nella nostra vita, minimizzeremo lo stress. Ma questo tipo di applicazione richiede umiltà. Dio ha trovato la soluzione per andare d'accordo con noi. Capite? L'ha trovata. questo versetto si applica a Dio. Se è possibile, per quanto dipende da te e per quanto dipende da Dio, l'ha fatto per andare d'accordo con noi. o viceversa, per recuperare la relazione. Dio ha mandato Gesù. Non poteva fare altro. non ha mandato Gabriele. Non è abbastanza. Gabriele non è Dio. Capite? Le uniche persone che hanno la vita naturalmente sono Padre, Figlio e Spirito Santo. La vita di ogni angelo dipende da Dio. Continua ad andare in palestra, a fare esercizio, a prendere vitamina C, ma vivi grazie a Dio. Dio ha mandato Gesù Cristo. Fino a che punto è arrivato, Cristo è sceso. È diventato uno di noi. Ed è finito su una croce criminale. affinché Dio potesse perdonare e portare riconciliazione e salvezza. Non solo riconciliazione, ma anche salvezza. Romani 6.23 Il salario del peccato è la morte. Stop. L'anima che pecca morirà. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, Gesù morì. Lo ha detto. In Apocalisse, capitolo 1, verso 18, Io fui morto, ma ecco sono vivente. Lo disse a Giovanni sull'isola di Patmos. Io fui morto, ma ecco sono vivente. Non si può andare oltre la morte. Ma Gesù è risorto. Perché è risorto? Il salario del peccato non è morte e resurrezione. È solo morte. Tutti coloro che si perdono pagheranno la pena del peccato, ma non saranno mai salvati. Cristo è morto per pagare la pena del peccato, ma è anche risorto per darci la possibilità di vivere con Lui per sempre. Egli è andato al di là di quanto richiesto dalla legge. La legge chiede la morte, non la resurrezione. L'ho detto per fare un collegamento con Matteo, capitolo 5, dal verso 38 al 41. Quando Gesù ci ha detto, attraverso Matteo, se uno ti costringe a fare umilio, fanne con lui due. Gesù ha il diritto di esigere questo da noi, perché Dio è fatto così. Cito, facciamo l'uomo a nostra immagine. Questo standard non è cambiato. Dio vuole che noi riflettiamo la sua immagine. Parte dell'immagine di Dio è andare oltre. Ecco perché tu e io non siamo morti. Perché Dio fa il secondo miglio. Poi fa un altro miglio. Poi ne fa un altro. Ci sono persone che sanno tutto, ma sono perse. Dovresti venire in chiesa, lo so, lo so. Dovresti restituire la decima, lo so, lo so. Dovresti lasciare quella relazione perché quella donna non è tua moglie, lo so, lo so, ma sa cucinare. Dovresti smettere di lavorare il sabato, lo so, lo so. Sanno tutto. Diretti verso la dannazione. Perché sono ancora vivi? C'è un Dio che continua ad andare oltre. Perché non vuole che ci perdiamo. Per quindici anni un uomo è stato alcolizzato, tossicodipendente, eccetera. E c'è un angelo che veglia su di lui. Gli esseri umani non possono vedere l'angelo. Ignorano l'uomo e vanno oltre. C'è un angelo che veglia su quell'uomo. C'è una donna, prostituta per 25 anni. C'è un angelo che protegge la sua vita perché Dio vede che c'è ancora speranza. Così fa un miglio in più. Mi trovavo in un paese per condurre una riunione simile. Una ragazza venne da me per una consulenza. Si siede e si presenta così. Sono una lavoratrice del sesso. E mi disse Prima di uscire la sera io mi inginocchio e prego per avere protezione. Qualche fariseo ben vestito potrebbe schifarsi. Era molti anni fa non so cosa lei faccia ora ma credo che Dio abbia sentito quelle preghiere. Lei pregava proteggimi perché cercava di guadagnare soldi per i suoi figli. Dio non giustifica questo tipo di lavoro ma Gesù disse ai farisei i pubblicani e le meritrici vi precedono nel regno dei cieli. Dio stava proteggendo quella donna perché vedeva che c'era speranza di cambiare vita. Serviamo un Dio che fa il miglio in più. La prova più grande è la croce del Calvario. Senza quel sacrificio Dio non può perdonare. Permettetemi di pregare ancora Padre, mentre continuo dammi le parole giuste per esprimere quanto sei gentile. Ti prego, nel nome di Gesù. Amen. Prima Giovanni, capitolo 1, verso 9 Se confessiamo i nostri peccati Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Egli è fedele e giusto. Esaminiamo queste due parole. Fedele significa affidabile. Potete contare su di Lui. Questa scrivania è piuttosto solida. Per la telecamera mi sposto leggermente. Fedele è giusto. Questo è Dio. Puoi appoggiarti a Dio e non si muoverà. Capite? Appoggiate il vostro peso su Dio e non si muove. Fedele. Non devi avere dubbi su Dio. Appoggiate il vostro peso su Dio e non si muove di un centimetro. Se confessiamo i nostri peccati Egli è fedele e affidabile. Ma l'altra parola è giusto. Questa parola riguarda la giurisdizione cioè è la cosa giusta da fare per Dio in base al Calvario perché Gesù ha pagato il prezzo e in base a ciò Dio può perdonarmi. Nella misura in cui Dio è amore togli il Calvario e Dio non può perdonarmi perché Dio non ignora la Sua legge. La croce di Cristo è la resurrezione. Tutto ciò che riguarda Cristo sulla terra la Sua dura vita la Sua morte e resurrezione grazie a queste cose Dio può fare qualcosa per noi. Dio è andato oltre la chiamata al dovere. Quando ci chiama a fare lo stesso vuole che ci comportiamo come Lui se è chiaro dite Amen. Dio va oltre e noi dobbiamo fare lo stesso se siamo fatti a Sua immagine e somiglianza. Dato che il Calvario è la massima espressione di Dio per andare oltre e per perdonarci noi dobbiamo fare la stessa cosa. Noi dobbiamo essere disposti a fare un altro miglio per appianare le divergenze nella Chiesa. Qualcuno vi ha offeso e non l'avete perdonato? Questa sera Dio vi dice come io ho fatto il passo più lungo per darvi il perdono io vi chiedo di comportarvi come me e di fare il passo più lungo per risolvere il conflitto anche se siete innocenti. Gli standard di Dio sono così elevati da richiedere alla parte innocente di muoversi per prima. La natura carnale dice non ho fatto niente di male vieni tu ma non camminando vieni strisciando. Perché è farmaco senza ricetta medica? Guardiamo cosa accade ad un uomo prima di confessare. Salmi capitolo 32 verso 1 Beato colui la cui trasgressione è perdonata il cui peccato è coperto Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno C'è una benedizione nell'avere i peccati rimossi e rifiutare il perdono è peccato. Ciò che la persona vi ha fatto è peccato ma rifiutarsi di perdonare è peccato. resto nella mia innocenza pensando di essere nel giusto e che l'altra persona sia nel torto ma per Dio il rifiuto di perdonare è peccato. Mentre tacevo le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me il mio vigore era diventato simile all'arsura dell'estate Davide soffriva fisicamente finché non confessava i suoi peccati le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno ha sofferto fisicamente il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate il peccato interiore produce problemi fisici nel 1800 e nei primi del 1900 si pensava che mente e corpo non avessero alcun legame che il corpo fosse un dispositivo meccanico per seguire le leggi della fisica ma grazie a Dio luce arrivò ai medici accorgendosi che esiste un legame indissolubile tra mente e corpo ma noi sappiamo per ispirazione che c'è un legame indissolubile tra spirito e corpo la peggiore malattia che possiamo avere è il peccato salmi capitolo 6 verso 1 o eterno non correggermi nella tua ira e non castigarmi nell'ardore del tuo sdegno abbi pietà di me o eterno perché sono sfinito dal male guariscimi o eterno perché le mie ossa sono afflitte anche la mia anima è grandemente afflitta a causa del peccato lui soffriva sia fisicamente che mentalmente nessuno è sano se non risolve i peccati non importa se la vostra pressione sanguigna e il vostro indice di massa corporeo sono a posto non importano i valori e se l'istituto superiore di sanità vi dichiara sani la presenza del peccato ci rende malati dobbiamo vedere le cose come Dio noi diciamo alla gente di essere sane seguendo le otto leggi della salute io credo nelle otto leggi della salute ma la prima legge per vivere bene è confessare i propri peccati togliete di mezzo il peccato tutte le malattie sono il risultato del peccato che si tratti di un mio peccato o del fatto che viviamo in un mondo peccaminoso tutte le malattie sono il risultato del peccato togliete il peccato e cosa succede? scompaiono le malattie e la morte la legge numero uno per la salute è eliminare il peccato dalla propria vita perché il peccato porta alla morte dall'interno potete curarvi perdonando qualcuno non avete bisogno pensate al titolo non serve la ricetta a meno che la parola di Dio sia una ricetta automedicatevi perdonando qualcuno perché il rifiuto di perdonare vi distrugge Matteo capitolo 6 versi 14 e 15 perché se voi perdonate agli uomini le loro offese il vostro padre celeste perdonerà anche voi in questo versetto c'è una condizione se volete che Dio vi perdoni perdonate gli altri se l'occasione lo richiede perdonate gli altri e la persona che dovete perdonare dovrebbe essere il vostro partner spero capiate io intendo il coniuge dite amen a voce alta se perdonate agli uomini le loro offese e Dio sta guardando anche il vostro padre celeste vi perdonerà perché Dio è fatto così Dio perdona le offese delle persone poiché dobbiamo vivere come Dio dobbiamo perdonare rifiutare di perdonare non è da Dio ma da Satana verso 15 ma se voi non perdonate gli uomini le loro offese neppure il padre vostro perdonerà le vostre nessuna persona che non perdona può essere salvata mantenere il rancore e non perdonare porta alla morte eterna perdona quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non ho amore divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo sono solo un rumore per Dio ma quando perdonate siete musica se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello poi torna e presenta la tua offerta parola di Gesù curati da solo come? datemi una parola perdono il Vangelo non richiede sentimenti ma richiede un'azione basata sulla parola di Dio questa è fede i fratelli devono risolvere i disaccordi sia di persona che online oggi vi voglio dire medicatevi perdonate qualcuno che ha peccato contro di voi e che voi odiate raccontate alla persona cosa vi ha fatto e come vi ha influenzato un mese fa ti ho prestato 500 dollari e poi ti sei trasferito nell'Asca capite? mi hai messo in gravi condizioni ho perso la mia casa mia moglie mi ha lasciato questo è il risultato della tua azione ma il Signore mi ha toccato perché ho peccato io ti perdono molti anni fa ho parlato in Inghilterra parlavo sul perdono durante la settimana di preghiera una signora si alzò e se ne andò nella frenesia della predicazione io non me ne accorsi diverse settimane dopo mi arriva un'email quando stavi predicando io sono uscita non lo accettavo perché ho qualcosa contro la sorellastra adottiva lo aveva per anni perché da bambina il padre si era risposato e la figlia della nuova madre la trattava male lei aveva questo rancore nei confronti della sorellastra lo portò per anni ma ogni sabato andava in chiesa ma Dio fa il miglio in più finché non l'ha prese durante quella settimana di preghiera ma anche se lei andò via lo spirito uscì con lei e non la lasciò in pace poi lei cercò di ritrovare la sorellastra alla fine trovò un numero e si mise in contatto con lei scoprendo che anche lei la cercava da anni per scusarsi ma non solo nel tempo lei era diventata indovinate avventista del settimo giorno una ragazza venne da me dicendomi odio mio padre perché tratta la mia sorellastra meglio di me io le dissi non puoi odiare tuo padre io lo odio devi perdonare tuo padre no devi perdonare tuo padre no preghiamo ci siamo inginocchiati prima prega tu lei non voleva pregare bene pregherò io e ti dirò cosa dire caro padre caro padre grazie per la vita io perdono mio padre io perdono mio padre lei inizia a piangere non volevo alzarmi finché non l'avesse detto io perdono mio padre poi lo disse e si mise a piangere finito di pregare lei se ne andò tre settimane dopo mi scrisse devi sapere che io sono una persona completamente diversa dai dite amen sono una persona diversa il perdono guarisce chi perdona medicatevi farmaco senza prescrizione perdonate qualcuno e vedrete il vostro sistema immunitario alzarsi e rafforzarsi prima di tutto spiritualmente se voi perdonate agli uomini le loro offese il vostro padre celeste perdonerà anche voi ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese neppure il padre vostro perdonerà le vostre perché mostriamo a Dio come ci trattiamo l'un l'altro perciò oggi promuovo un farmaco senza prescrizione medica migliorate la vostra salute spirituale mentale e fisica perdonate e curatevi non importa se la persona lo riceve bene o male perdona dimentica i tuoi sentimenti perdona quanti di voi dicono padre se nella mia vita si presentasse l'occasione di perdonare qualcuno dammi il coraggio divino di perdonare alzate la mano destra se il messaggio è per te agisci ora preghiamo padre celeste grazie per la sfida della tua parola il calvario ci dimostra che a te piace perdonare poiché siamo fatti a tua immagine e somiglianza noi dobbiamo perdonare ti prego Dio sappiamo che la natura carnale rende difficile esercitare l'umiltà necessaria per perdonare chi ci ha offeso dacci la forza per fare ciò che è giusto perché perdonare è agire come Dio se abbiamo sbagliato confessiamo e chiediamo perdono caro Dio ricordaci che ci ami personalmente e che hai già un posto per noi nel regno fa che non mettiamo a rischio il nostro posto nel tuo regno che il tuo spirito ci spinga un po' più forte sotto la forza dell'amore per confessare o perdonare finiamo con questa determinazione ti prego nel nome di Gesù che il popolo di Dio dica amen e amen sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni